14 dicembre 2003, data di un nuovo battesimo per un vecchio teatro. La Fenice risorta dalle sue ceneri come l'uccello del mito. Ogni nome contiene un destino, questo più degli altri, legato fin dall'origine alla Ressurrezione. Nato nel 1792, bruciato due volte nella sua vita, il Gran Teatro Veneziano è nato nuovamente dopo una lunga gestazione. Ci sono voluti quasi otto anni, ma adesso è di nuovo com'era e dov'era. La ferita è stata sanata. Il Calvario cominciò in una sera tremenda, poco prima delle 21. Adesso dovete allontanarli tutti quanti. Le fiamme si videro presto in calle della Fenice, uscivano dal ridotto del loggione. In pochi minuti, nonostante l'allarme, nonostante l'arrivo dei vigili del fuoco, l'incendio divenne incontrollato.